Rieccoci, rieccoci, rieccoci. L'anno scorso facevo un gran tifo per Reinders, non so quanti di voi se lo ricordano, ancora prima di vederlo arrivare, ancora prima di conoscere bene le sue caratteristiche. Credo di aver avuto un pizzico di ragione, quest'anno sto facendo un gran tifo per Fufanai, quella la trattativa che fa svoltare. Vedo che c'è chi si annoia per questa trattativa. Eh, mi spiace, ma non è ancora una trattativa, perché 35 milioni di euro per un giocatore libero fra agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, fra cinque mesi, non è una trattativa. È un puntiglio un po' incazzato che prima libera, prima sgombera il campo, meglio è. Quindi a livello di centrocampo mi ha incuriosito questa cosa per cui dalla Spagna arriva una voce molto precisa. Cioè, dalla Spagna non è che ti hanno detto interessamento, sapete quello che si è detto su Teo e Mike per mesi e mesi, no? Interessamento. No, si è detto il Milan ha fatto un'offerta. Cioè, si è detto il Milan ha fatto un'offerta per Cardoso del Betis. Oh, ragazzi, non è uno scenario, non è un'ipotesi, non è un vediamo cosa succede, è una notizia. È stata fatta un'offerta per un giocatore, però vedo che è sparita da un giorno all'altro, per cui è stata fatta un'offerta di 20 milioni, i Balbetti se ne chiede 30. Che è bellissimo come scenario, nel senso che non viene nemmeno detto che è stata respinta, perché poi le offerte non si fanno per essere respinte. Quando fai un'offerta hai... Dietro l'offerta c'è un lavorio diplomatico, dietro l'offerta c'è un'idea che possa essere qualcosa. Invece, chi dà la notizia, chi dice, sto parlando di narrazioni, non sto parlando di fatti, è stata fatta un'offerta, sarà vero, non sappiamo, però ne chiederò 30. Se la notizia è il Milan ha fatto un'offerta, la consecuzione dovrebbe essere e il Betis ha detto no, perché ne vuole 30, ci saranno altri incontri, ci saranno altri contatti. Invece no, è sparita. Tant'è che oggi la gazzetta dello sport fa una sorta di play-off per il ruolo di centrocampista fra Cone e Fofana. Quindi, insomma, diventa tutto molto curioso. Appena si muove il Milan, o 35, o 30, o 30. E per evitare che qualcuno sia noi, noi dovremmo anche pagare subito. Cioè, per un giocatore che va... Perché poi quello che ti attacca sempre, se tu prendi un giocatore a 35, ma come hai preso a 35 un giocatore che si liberava a zero il primo gennaio? Ah, quelli che attaccano sempre, c'ha sempre ragione. Ma ripeto, non mi sto riferendo a... Veramente, ragazzi, non scherziamo, a nessuno in particolare. Sto riferendo a climi offensivi, nel senso di attacco, di attaccanti. E quindi, insomma, diventa particolare come scenario. Io, ripeto, nello scenario di oggi, nello scenario di oggi, io torno su un concetto che non so quanti di voi ricordano. Non so quanti di voi ricordano il primo Loftus-Cic. Il Loftus-Cic di Bologna, di Milan-Torino, di Roma-Milan della scorsa stagione. Fino a quando poi lui si fa male, se non sbaglio, contro il Verona. Ecco, quel Loftus-Cic era una mezzala di sostanza, anche di interdizione, anche di... perché poi non ho capito perché dovremmo avere cinque mezze ali, ma... va bene, è importante avere due giocatori per ruolo. Però, adesso noi dobbiamo avere cinque perché così... perché così... va bene, però non perdiamo tempo. Il Loftus-Cic, poi dopo l'infortunio, rientra, fa una grandissima partita Loftus contro il Paris Saint-Germain, ma il Loftus del Paris Saint-Germain è un Loftus che parte basso, un Loftus che si radica palla e un Loftus che si inserisce e riparte. Poi invece diventa Loftus trequartista, Loftus che fa i gol. Ecco, io onestamente nella situazione di oggi, immaginando che Nefofanani e un altro centrocampista arrivi per Milan Torino, Loftus mezzala, ma mezzala tosta e robusta di fisico che poi quando c'è l'opportunità riparte ma che intanto presidia il forte e i chili e i chili e la personalità all'Oftus non bastano. Io direi perché no, non sto dicendo che non deve arrivare nessuno a centrocampo. Sia ben chiaro, perché ripeto, quello che ho detto prima, ho più fame io di mercato di tutti voi messi insieme, viene in mente Cristian Vieri agli europei del 2004, ma non è quello lo spirito. Però, come siamo oggi, e tu devi mettere in preventivore, quelli col Torino sono tre punti pesanti e importanti tanto quanto quelli di quando il mercato sarà finito. Per cui, recuperare un po' di Loftus che ha fatto una bella intervista, un po' di Loftus di sostanza, a me onestamente non dispiacerebbe. Quindi non sto dicendo che avanzando o arretrando Loftus abbiamo chiuso il nostro mercato, sia ben chiaro. Sto parlando di tempi di inserimento degli eventuali e auspicabili nuovi, ma nel frattempo lo stato dell'arte, lo status quo di adesso, chi c'è adesso per la prima partita contro il Torino che è già una partita tosta che mette in palio punti importanti. Quindi, quindi, insomma, sono tutte cose molto da molto da vedere. Continuo a pensare che Samarzic non sia non sia una non sia una mezzala, non sia un centrocampista ma sia un trequartista. Tosto, ma trequartista. E quindi anche lì dovesse sbloccarsi ma non credo con con l'udinese con la formula giusta con la contropartita giusta Samarzic tu allora potresti avere Samarzic e Pulisic trequartisti invento, invento, sto inventando e potresti arretrare Loftus dietro. Chiaro poi che ci sono giocatori con attitudini migliori, con attitudini più marcate, più rodate per fare quel tipo di ruolo come appunto Fofanà. Però, in questo momento Fofanà non la vedo come trattativa, la vedo come lavoro diplomatico in sospeso. Ricordo anni fa quando c'erano questo tipo di situazioni c'era chi parlava di Surplus, di Antonio Maspes che era un grande pistard, un ciclista pistard dell'inseguimento che a un certo punto stava sull'anello più alto della pista in Surplus poi piazzava lo scatto, piazzava lo sprint. Ecco, in questo momento mi sembra una situazione di Surplus però poi la bicicletta verrà giù e sprinterà dalla pista oppure no. Questo è il tema. È vero che il Monoco ha preso il sostituto di Fofanà. È vero che tenere un giocatore per un puntiglio per un cavolatura che non so bene se sia questo il motivo e non so bene dovuta a cosa magari a qualche fraintendimento potrebbe non essere la cosa migliore. Però francamente francamente ecco oggi diciamo che sul fronte centrocampista difensivo che è un tema aperto del nostro mercato diciamo che la luce in fondo al tunnel ancora non si vede poi tutto può essere nel corso nel corso del mercato però ecco le nostre cose hanno sempre abbastanza un senso e devo dire che è già passato molto tempo da quando abbiamo iniziato a parlare di Fofanà non vi sto dicendo che non arriva però più si allungano le cose più i puntigli e le incavolature si radicano e più rischia di avvitarsi la situazione speriamo bene speriamo bene speriamo che succeda che succeda qualcosa che ci dia quel cardine quel cardine muscoloso quel cardine pesante di cui abbiamo bisogno il centrocampo a domani